Le ragazze Amaranto hanno iniziato nel migliore dei modi il girone di ritorno, ottenendo un netto successo contro la polisportiva Cella e portando a casa una vittoria tennistica. Fin da primi minuti di gioco, infatti, le Amaranto hanno messo in difficoltà le ospiti, con un pressing molto alto che ha causato molti errori in fase di costruzione della squadra avversaria. La partita si mette subito bene quando al ventesimo Tuteri, con un piattone chirurgico da fuori aria, spiazza Benassi. Le padrone di casa in più di un'occasione sono state vicino al raddoppio, ma il portiere ospite si è fatto trovare pronto. Sul finire della prima frazione di gioco, l'Arezzo trova il secondo gol grazie a Capitan Verdi. Nella ripresa le Amaranto continuano a creare azioni pericolose, ma senza troppa fortuna. Al 65esimo è di nuovo Tuteri a seglare la terza rete grazie ad un meraviglioso assist di Verdi, che la mette da sola davanti a Benassi. Nel giro di pochi minuti le padrone di casa trovano il 4-0 con Razzolini, che sigla la sua decima rete stagionale. Tra l'85esimo e l'87esimo le ragazze a Amaranto chiudono definitivamente il match, grazie ai gol di Leonessi ed Orlandi. L'Arezzo con questa vittoria si porta così a 28 punti in classifica sulle due lunghezze dalle capoliste Bologna e Filecchio. 6-0 è una vittoria che comunque è utile per la classifica. In questo momento siamo secondi a due punti, quindi era importante questo risultato, molto importante. Abbiamo Bologna e Filecchio in testa e noi a pari punti con la Torres, quindi 28 noi Torres e 30 Bologna-Filecchio. Siamo le big, quindi siamo quelle quattro squadre più forti del campionato, quindi ce la giocheremo tutta con gli scontri diretti probabilmente. E la vittoria di domenica col Bologna ci ha rilanciato a essere protagoniste su questo campionato. E come sappiamo bene questa di oggi è stata la prima di 11 finali che abbiamo da affrontare da qui alla fine del campionato per arrivare a raggiungere il nostro obiettivo. Farsi valere in quel minutaggio che ci viene concesso è la miglior cosa da fare e la cosa importante non è tanto i gol o le doppiette, ma il fatto che abbiamo guadagnato una vittoria e pensiamo già alle partite successive. Contenta della prima rete? Molto contenta, sì. Siete un gruppo di amiche oltre che giocatrici? Sì, siamo un gruppo molto stretti e un bel gruppo.